pesaro ce l'ha fatta sarà capitale della cultura 2024 pesaro capitale la città festeggia un traguardo straordinario omicidio lulli ambera condannata a cinque anni via al talent day per le nuove leve di turismo e ristorazione nuove macchine elettriche per la svolta green di aset buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è mercoledì 16 marzo e questa sera chiaramente apriamo questa edizione parlando di una giornata straordinaria quella di oggi per la città di pesaro perché pesaro e sarà la capitale della cultura per l'anno 2024 fra le dieci città arrivate in finale è stata infatti giudicata la migliore dal ministero della cultura che ha annunciato proprio in diretta questa mattina alle 11 questa diretta l'abbiamo trasmessa anche su rossini tv questo importante verdetto e allora andiamo a approfondire questo argomento in questo primo servizio all'unanimità raccomanda l'onorevole ministro quale capitale della cultura 2024 la città di pesaro pesaro ce l'ha fatta alle 11 20 il ministro della cultura dario franceschini aperto la busta con il risponso della giuria presieduta da silvia calandrelli è annunciato la vittoria di pesaro a capitale italiana della cultura per il 2024 applausi nelle sale romane del ministero dove matteo ricci schierato in prima fila con gli altri nove sindaci finalisti ha ascoltato l'auspicato verdetto gioia refrenabile nella sala rossa del comune di pesaro dove assessori e artefici della candidatura si sono intera città che dopo procida 2022 e bergamo brescia 2023 sa che fra meno di due anni sarà il centro gravitazionale della cultura nazionale c'era il 10 per cento di possibilità ma l'audizione di pesaro ha convinto la giuria preferendola alle proposte di chioggia vicenza mesagne sestri levante pestum viareggio grosseto siracusa e a quell'asco lipiceno con cui pesaro ha instaurato un sano lavoro di squadra regionale ricordato da ricci abbracciato al sindaco ascolano fioravanti come regione marche abbiamo fatto una una cosa insieme da subito abbiamo detto che saremo stati candidati insieme e abbiamo chiesto alla regione un sostegno comune alle due città comunque sarebbero andate le cose e così sarà quindi ovviamente complimenti a tutti i sindaci ma in particolar modo una città per noi sorella come la città di ascoli Ricci che ha esultato la vittoria mostrando la foglia di ginkgo biloba albero della pace ridipinto con la bandiera ucraina un simbolo mostrato anche durante l'audizione del 3 marzo per una vittoria da dedicare a Kharkiv perché vogliamo dedicare questa vittoria alla città di Kharkiv in questo momento sotto le bombe e che è come noi città della musica unesco questa è una foglia di ginkgo biloba è un po' l'albero al quale si è ispirato tutto il nostro dossier la natura della cultura in questi giorni ci siamo sentiti spesso per mail con il sindaco di Kharkiv spero davvero che possa essere con noi il prima possibile a festeggiare soprattutto che Kharkiv possa uscire da questa guerra tremenda e possa reiniziare a suonare come sa fare infiniti gli attestati di congratulazione e di giubilo da tutte le istituzioni e associazioni di categoria di Pesaro Urbino Pesaro riceverà un milione di euro per sviluppare i suoi progetti ma è pronta a tanti ulteriori investimenti per portare come promesso la capitale della cultura in tutto il territorio provinciale soprattutto è pronta a investire sulle idee come ricordato durante i festeggiamenti in comune dalla direttrice di Pop Sofia Lucrezia Ercoli fra le principali curatrici del dossier di candidatura la natura della cultura si tratta di costruire un viaggio fino al 2024 noi come Pop Sofia come festival insomma che da dieci anni in questa città ci siamo ma già nel dossier che è stato presentato ci sono tante tappe da realizzare insieme con la convinzione appunto di costruire la città che non c'è noi su questo crediamo molto Pop Sofia la cultura pop fa parte appunto dell'immaginario che ci rende possibile l'impossibile e quindi credo che insomma cultura che guarda il futuro sia in grado di costruire un progetto difficile ma insomma di questi tempi avere anche le risorse per realizzare i propri sogni è davvero una cosa bellissima di cui siamo grati anche al ministero e credo che Pesaro saprà usare bene questa opportunità Applausi quindi a Roma gioia in municipio dove pochi minuti dopo la vittoria abbiamo raccolto la soddisfazione di Daniele Vimini da oggi assessore alla cultura della città capitale della cultura Siamo sempre stati mentalmente al 10% sia per umiltà che per senso della realtà perché poi le variabili di una corsa come questa sono veramente tante sapevamo di aver fatto un ottimo dossier, un dossier molto apprezzato insomma dalla commissione a meno per quello che c'era parso di capire, di carpire ma non bastava non bastava perché poi insomma le variabili sono tante in una corsa come questa Credo che grazie all'impegno di tantissime persone si sia fatta anche in occasione dell'audizione del 3 marzo quella che insomma a volte si chiama nelle coppe, la partita perfetta sia nei tempi che nei contenuti che nei giocatori anche con delle scelte dolorose di scegliere alcune figure rispetto ad altre con tutto quello che potevamo raccontare però insomma penso che l'audizione sia stata uno dei marchi di fabbrica di questa candidatura che ha contribuito a darne un po' la credibilità insomma a dimostrare che insomma quello che c'era scritto eravamo già in grado anche di realizzarlo live attraverso in parte l'audizione detto questo appunto è una gioia enorme per tutto il territorio, per la città, per tutto il territorio provinciale ringrazio i sindaci che ci hanno creduto, che ci hanno dato la spinta anche decisiva il presidente della provincia, la regione con cui potremo ora fare veramente questo lavoro anche di partnership e di amicizia con Ascoli nel contribuire assieme a realizzare anche il loro programma e comunque fare una grande festa per le marche nel 2024 e ovviamente un risultato come questo, una prospettiva come questa dà anche la responsabilità di fare bene, di fare bene perché è un'opportunità che tutta la nostra provincia tutto il nostro territorio non può perdere, di visibilità, di fare emergere le tante cose straordinarie che già e che magari hanno bisogno di qualche riflettore in più come la Capitale 2024 può dare e come appunto era anche negli obiettivi di questo traguardo, sempre guardando tra l'altro avanti anche al tema della Capitale Europea 2033 per cui ovviamente siamo ancora più in corsa ed è una delle cose su cui ci troveremo a lavorare domani e lasciatemi anche una dedica, naturalmente più di una dedica anzi sia a Daniele Tagliolini naturalmente che ci ha lasciato nei giorni scorsi e che rappresentava anche l'essenza del titolo della nostra candidatura che è la natura della cultura, è sempre legato innovazione, tecnologia, visione strategica di un territorio provinciale e anche Alex Eusepi che invece era parte del mattone di partenza di questa candidatura che era il quartiere attraverso anche il lavoro del quartiere Capologo della Cultura e anche lui non può essere con noi a godersi questo momento ma è sicuramente tra gli ispiratori e tra quelli che in ogni momento ci hanno motivato e anche in una provincia che ha sofferto tantissimo negli ultimi due anni per il Covid con centinaia e centinaia di morti ma anche a tutti gli artisti che ci hanno lasciato in questi due anni, spesso anche molto giovani per vari motivi, in primo luogo questo, e sono presenti nel cuore, sono presenti nel dossier sono presenti nel programma che andremo a portare avanti a partire da tutta la menzione che ha avuto l'Oceano Adriatico dentro questo racconto e in ultimo un pensiero che è già storicizzato all'interno del dossier, tutte le fonti di ispirazione, a volte si dice essere nani sulle spalle dei giganti e forse questo è il caso, cioè di poter guardare in là appoggiarlo insomma su quanto di grande, fatto da tanti nei decenni e nei secoli precedenti intanto oggi è anche il compleanno di, è l'anniversario di matrimonio di Rossini sarebbe 200 anni fa il suo matrimonio, quindi gli ho fatto anche, credo, un bel regalo di matrimonio di nozze, penso che l'avrebbe apprezzato, così come tutta la realtà di Massimo Dolcini che è stata trasversale a tutto il dossier di candidatura e che è uno dei sensi di responsabilità e di orgoglio anche della città che portiamo avanti assieme a tutti gli altri che abbiamo citato, raccontato, che proveremo con umiltà ma anche con molta determinazione a realizzare. Ed ora cambiamo completamente argomento, parliamo di cronaca e ci spostiamo a Urbino dove oggi in tribunale erano attesi importanti sviluppi processuali sull'omicidio di Ismaele Lulli ucciso nel luglio 2015 nel territorio di Sant'Angelo in Vado processo che ha visto oggi Ambera Sali venire condannata alla pena di 5 anni di carcere per essere stata ritenuta responsabile di aver attirato in trappola con un sms Ismaele chiedendogli di incontrarsi nel posto in cui alla fine si sono recati i suoi assassini Iglimeta e Mario Sema già da tempo condannati all'ergastolo. È partito oggi dall'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro il Talent Day è un'iniziativa nazionale di Fipe Conf Commercio che punta a creare un importante legame fra gli studenti e le future professioni del turismo e della ristorazione Fai della passione il tuo lavoro parte con questo invito il Talent Day l'occasione in cui la Fipe Conf Commercio arriva negli istituti scolastici per diffondere la cultura del turismo, della ristorazione, della ricettività alberghiera per creare un legame con il mondo della scuola e il mondo appunto dell'attività dei pubblici esercizi un viaggio del Talent Day che comincia oggi qui 16 marzo dall'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro Talent Day è un'iniziativa nazionale organizzata da Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi nasce dalla constatazione degli ultimi anni una assoluta carenza di personale nelle strutture ricettive e nella ristorazione anche nella nostra provincia ne abbiamo parlato negli ultimi due anni la difficoltà delle nostre strutture di avere il personale quindi parte questa iniziativa e parte proprio da Pesaro siamo la prima tappa nazionale di questo incontro tra domanda e offerta quindi la domanda delle strutture ricettive e della ristorazione è l'offerta dei giovani che frequentano l'Istituto Alberghiero Pesaro ha un grande patrimonio, un patrimonio inestimabile che sono i giovani che frequentano l'Alberghiero è importante avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro appassionarli soprattutto a questo tipo di lavoro questo lo dico perché anche nella scelta che ci sarà nella scuola quando viene fatta spesso non viene valutato il fatto che questo è un ottimo lavoro chi frequenta questa scuola praticamente ha il lavoro quasi assicurato però è importante capire il territorio capire tutto quello che c'è nel mondo del lavoro quindi questi incontri sono fondamentali cioè unire il mondo del lavoro e la scuola è fondamentale Tra i relatori di questo Talent Day il presidente dell'Associazione Alberghiero di Pesaro Paolo Costantini il presidente di Confcommercio Marche Nord Angelo Serra che ha sottolineato l'importanza fondamentale del passaggio dalla teoria alla pratica in questo mestiere nonché il presidente dell'Associazione Ristoratori Confcommercio Mario Di Remigio che ha sottolineato l'importanza di questi eventi in questa fase di calo del personale Si capisce che importanza ha a fare della pratica perché negli anni che si studia se uno riesce a fare anche la pratica arriva a un certo momento che è finito gli studi anche la pratica può andare a lavorare ovunque e soprattutto ha avuto modo di verificare se questo mestiere le piace perché se questo mestiere non piace è meglio cambiarlo perché è un mestiere che se piace non è pesante anzi è bellissimo c'è dei risvolti talmente belli che lo dimostri che io ho quasi 80 anni faccio fatica a lasciarlo Negli ultimi anni c'è stata una dispersione dei ragazzi praticamente di chi faceva l'alberghiero e quindi pochi poi continuavano a fare questo lavoro o il lavoro che avevano in qualche modo sognato facendo l'istituto alberghiero era importante secondo noi ricucire un po' i rapporti tra l'istituto alberghiero e le attività economiche perché in un momento come questo diciamo che il covid ha segnato molto ha segnato molto e ha fatto disperdere anche molte professionalità quindi bisognerà ricostruire non diciamo da zero però in sostanza abbiamo perso il 60-70% della forza lavoro perché nel frattempo non riuscendo a mantenere per molti lo staff organizzativo che avevano hanno dovuto in qualche modo adesso riassumere in previsione o della stagione oppure dell'annualità Talent Day è un'occasione importante così come è importante avere un compagno di classe che già unisce scuola a lavoro come Ismaila ragazzo originario del Gambia e residente a Fano che abbiamo intervistato io faccio pasticceria al Fano Center dove dopo scuola vado direttamente lì a lavorare faccio 4 ore al giorno io sabato e domenica che faccio 6-7 ore per me vuol dire che aumentare la capacità di sviluppare la capacità di esperienza nel mondo del lavoro però anche fare quello che sto studiando a scuola di applicarlo anche fuori di guardare, di scegliere una strada giusta per il mio futuro Ed ora ci spostiamo a Fano perché arrivano nuovi mezzi elettrici per lo svuotamento dei cestini dei rifiuti silenziosi ed ecologici sono la risposta di ASET per un presente e un futuro più green Caro carburante, addio Ora si passa all'elettrico Sono scesi in strada la scorsa settimana i 4 nuovi mezzi Gupil G4 ottenuti in locazione per un anno da ASET e SPA per lo svuotamento dei cestini del centro storico di Fano della zona mare e non solo Silenziosi ed ecologici I nuovi mezzi elettrici sono lunghi quasi 3,70 m alti quasi 1,90 m e larghi poco più di un metro e mezzo specchietti compresi Dimensioni contenute dunque ideali per attraversare centro storico e lungomare senza creare disagi Sono 4 mezzi che sono già entrati in funzione e non si tratta solo del centro storico ma si tratta anche del mare quindi tutta la parte che riguarda la ricezione alberghiere quindi sarà interessante anche per quest'estate per evitare quel minimo rumore che c'era prima e anche la zona di Gimara l'abbiamo fatta e poi anche in altre zone verrà ampliato il servizio Con la loro batteria a litio i Gupil G4 garantiscono un'autonomia di circa 135 km oltre a un tempo di ricarica di circa 6 ore e mezza In questo modo in un anno verranno immesse 35 tonnellate di anidride carbonica in meno Un bel vantaggio per l'ambiente considerato anche che i mezzi in questione verranno ricaricati grazie a fonte di energia rinnovabile come il fotovoltaico ma pure per Aset che stima già da ora un risparmio del 75% Sono completamente a batteria hanno un'autonomia di quasi 8 ore Abbiamo già fatto i calcoli che da un punto di vista remunerativo sono già convenienti solo sui risparmi energetici per quanto riguarda gli impianti Noi abbiamo molti mezzi che sono addirittura a metano e altri a gasolio e con i prezzi che ci sono adesso inizia a essere importante la spesa che dobbiamo sostenere Già da subito, già prima di questi aumenti sconsiderati sia del metano che della benzina che del gasolio erano già convenienti dai calcoli che abbiamo fatto quindi ci attendiamo anche da quel punto di vista un buon riscontro Performanti e in linea con gli obiettivi di transizione ecologica di Aset i Gupil G4 rappresentano una sorta di test sul campo in vista di un possibile acquisto definitivo dopo il primo anno di locazione Li stiamo testando nel senso che abbiamo fatto un po' di conti li vorremmo acquistare definitivamente però vogliamo un annetto di prova e sono praticamente in leasing per capire effettivamente se le prestazioni sono quelle che ci hanno in qualche modo preannunciato e se sono dei mezzi validi a tutti gli effetti è la strada che stiamo seguendo quella di innovare al più sia il parco mezzi che andare verso i veicoli a batteria che ormai sono il futuro poi questo mercato è un mercato estremamente in movimento nel senso che ci sono delle offerte che ci arrivano quasi quotidianamente di nuovi mezzi con nuove tecnologie con nuove autonomie con nuove prestazioni e quant'altro sono azioni concrete perché parliamo tanto di transizione ecologica ma poi bisogna tradurla con iniziative e qui lo stiamo dimostrando l'abbiamo fatto anche mi ricordo ricordo anche tutta la flotta per le mense tutta elettrica ma anche qui il lavoro che viene fatto per la pulizia della città in modo particolare nel centro storico nella zona mare nei quartieri nei centri abitati dove va ridotto l'inquinamento va applicato un percorso di risparmio e questa è una bella risposta ovviamente si sta sperimentando ma l'obiettivo è quello di incrementare sempre più con l'utilizzo di mezzi elettrici E' arrivato oggi in Piazza del Popolo a Pesaro il track di Polizia di Stato e Polizia Postale per la campagna itinerante di 73 tappe una vita da social 100 alunni delle terze medie e delle prime superiori pesaresi sono stati accolti all'interno del percorso didattico allestito fra il track e la sala laurana della prefettura si tratta di una campagna educativa alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi della rete dei social e dei pericoli del cyberbullismo Restando in tema di studenti saranno 450 quelli delle classi medie e superiori pesaresi che in 12 incontri per altrettante scuole vivranno l'esperienza del comune va a scuola si tratta di un nuovo kit diviso fra un gioco in scatola e un libretto esplicativo che educano alle esperienze del consiglio comunale novità promossa dal presidente del consiglio comunale Marco Perugini che partirà il 23 marzo con gli studenti della scuola Carducci e restando in tema di Pesaro capitale della cultura ricordiamo che domani giovedì 17 marzo verrà presentato anche il libro 100 cose da sapere da fare a Pesaro ed intorni scritto da Chiara Giacobelli una guida che abbiamo già approfondito con un servizio su Rossini TV appunto lo scorso mese e che ora avrà una presentazione pubblica e sarà proprio domani alle 17.30 alla chiesa della Maddalena continuiamo a parlare di libri in questo caso vi proponiamo Donne di Genere un volume scritto a quattro mani da Gioia Virgilio e Silvia Lolli che è stato al centro di un convegno al termine della settimana di iniziative legate alla festa della donna e allora ascoltiamo le due coautrici questo libro è un secondo lavoro che ha avuto già un precedente nel 2018 e questo infatti il sottotitolo del libro Donne Sport era il titolo generale sia del primo che del secondo questo specificatamente è analisi continua di genere cioè il tentativo nuovo era di fare un'analisi di genere cosa vuol dire? considerare gli ostacoli le discriminazioni le disparità che ci sono fra uomini e donne nello sport soprattutto le donne fanno fatica dalla storia del passato ad emergere e a continuare a fare sport quindi questo è l'analisi di genere e significa anche considerare le varie esperienze soggettive delle atlete perché noi facciamo parlare molto le atlete perché crediamo in questa operazione e perché quando loro parlano dicono sempre cose sempre inusuali e mai scontate quindi arricchiscono i contenuti della ricerca che comunque noi facciamo ci interessa appunto fare un'analisi quindi prendiamo i vari argomenti in un certo contesto e li esaminiamo con esempi e casi per noi è importante esempi e casi chiaramente più parlano le atlete di questi casi e meglio è quindi ho scelto sempre per viste eccetera dove parlano molto le atlete i temi sono sessismo e razzismo perché sono fondamentali sono la base della nostra cultura patriarcale in Italia in particolare ma anche negli altri paesi poi abbiamo trattato il tema della disabilità e questo c'era anche nel primo libro poi abbiamo trattato il tema delle proteste delle atlete nel senso che le atlete spesso intervengono positivamente e protestano per fortuna e quindi noi abbiamo dato voce a queste proteste sia a livello collettivo che individuali lo sviluppo dello sport non può essere che nella scuola perché è l'educazione fisica e sportiva cioè la materia che ho insegnato per più di 40 anni che può portare gli studenti i ragazzi allo sport è un tema che per esempio in Italia questo è ostico da capire in questi termini la scuola invece ha la capacità e la possibilità soprattutto di integrare realmente le differenze e la prima è la differenza di genere ma c'è anche la differenza all'interno degli stessi generi e oggi si parla per esempio del problema LGTB della transessualità eccetera eccetera la scuola è l'unico presidio soprattutto in un paese democratico a poter portare la democrazia anche nello sport quindi non la diseguaglianza ma le pari opportunità non l'uguaglianza perché l'uguaglianza vorrebbe dire appiattire tutti ma proprio nella differenza sapersi rispettare e quindi oggi la base è questo anche per le tante violenze come ha detto prima la dottoressa Virgilio che ci possono essere e che lo sport può veicolare e chiudiamo con il discorso della violenza la violenza e questo è violenza nello sport tema ancora tabù in Italia però in altri paesi hanno fatto già delle ricerche Francia, Stati Uniti ma soprattutto a Giappone hanno fatto delle ricerche dove gli abusi sessuali psicologici nello sport sono all'ordine del giorno in Italia ancora un fenomeno sommerso ma è un tema da affrontare e chiudiamo il nostro telegiornale con le consuete notizie dedicate allo sport locale ieri sera la Vispesaro era impegnata infatti nel turno infrasettimanale di Reggio Emilia dove ha perso 3 a 1 con la Reggiana seconda forza del torneo primo tempo concluso sull'1 a 1 col gol del Vissino Tonso a rispondere a Lanini dopodiché le reti di Arrighini e Guglielmotti hanno fissato il 3 a 1 definitivo che mantiene comunque la Vis ad un confortante ottavo posto in classifica in vista della sfida con il Modena capo classifica che sarà in scena al Benelli sabato alle 17.30 e adesso il momento di vedere quello che ci sarà questa sera in prima serata su Rossini TV alle 21.20 infatti avremo Capriole storie di fallimenti e rinascite il protagonista di questo racconto è Paolo Cevoli e questo video è stato realizzato dalla cooperativa l'imprevisto poi vi ricordiamo che domani torna la nostra diretta del giovedì con insieme a Canestro quindi partecipate scriveteci al numero di WhatsApp che vedete oppure commentate sotto la diretta Facebook potrete avere la possibilità di vincere biglietti gratuiti per le prossime partite gli ospiti di domani saranno Walter Magnifico e Alessandro Mengucci vi ricordo anche che domenica saremo in diretta dalla chiesa Santa Croce e quindi tutta la comunità è invitata a partecipare non solo in presenza chiaramente presso la parrocchia ma per chi non potesse di guardarci alle 11.30 su Rossini TV oppure sulla nostra diretta Facebook domani invece torna il nostro appuntamento con la rassegna stampa se riuscite a vederci in diretta l'appuntamento è alle 7.20 altrimenti alle 8.20, alle 12.30, alle 14 e alle 18 e a tutti voi che ci state guardando e magari ci vedete ancora sul canale 633 ricordatevi che appena non ci vedrete più su questa numerazione dovrete risintonizzare i vostri canali quindi le vostre tv di casa e cercarci sul canale 80 infatti l'80 sarà il nostro nuovo canale grazie a tutti e buona serata